Intanto rallentare le macchine, avere un po' di vigilanza in più e un po' di controllo in più. Sono queste le richieste dei residenti di via Brigata Sassari a Fano che chiedono a gran voce degli interventi per migliorare la sicurezza stradale a tutela della loro incolumità. Le lamentiele sono dirette contro la forte velocità dei veicoli in transito lungo la via del quartiere Fano 2. Soprattutto alla mezza oppure alle sette e mezza, all'otto, quando devono lasciare i figli a scuola. Non si capisce niente, camminano come i pazzi, quindi non lo so. Cerchiamo di fare qualcosa, aiutiamo sta via, aiutiamo i abitanti che vivono qui vicino, soprattutto i figli cani che ci abitano qui e tutto il resto. Uno si spaventa uscire anche fuori. Le famiglie infatti sono preoccupate e in particolare per i loro figli perché le auto lanciate a tutta velocità creano situazioni di pericolo. Purtroppo anche nei giorni scorsi un'automobilista ha investito un cagnolino senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso. La nostra via è una via molto, secondo me, disorganizzata perché le macchine vanno veloci, non hanno rispetto neanche per i bambini, neanche per gli animali. Anche quando nell'orario a senso unico le macchine fanno come gli pare, vengono comunque su, non rispettano neanche le leggi. Io purtroppo ho perso un cane e qua davanti me l'hanno investito, non si sono né fermati né niente, anzi le macchine continuano ad andare abbastanza veloci, quindi proprio non c'è rispetto per niente, nessun pudore né niente. Signora, che cosa è successo esattamente? È successo che una mattina, perché sono le sette e mezza così, è uscito per sbaglio il cagnolino piccolino, me l'hanno messo sotto e non si sono fermati per niente, chiunque sia stato. Per cui deduco che qui camminano in modo molto veloce con le auto. Bisognerebbe mettere dei dossi, perché qui abbiamo tanti bambini sulla strada e tanti animali, non è il primo caso che succede una roba del genere, per cui bisogna fare qualcosa. I residenti poi hanno avuto modo di confrontarsi con l'assessore alla viabilità del comune di Fano, Cristian Fanesi, che intanto ha chiesto alla polizia locale di aumentare i controlli. Poi in questi giorni i tecnici faranno un sopralluogo per capire e decidere eventuali provvedimenti.